Agro Nocerino Sarnese, Salerno. Incontro al Comune di San Marzano sul Sarno col Vice-Sindaco Vincenzo Marrazzo e l'Assessore Colomba Farina col Presidente del Consorzio Pomodoro ed il Docente Universitario. L'obiettivo è quello di promuovere il brand del Pomodoro San Marzano in tutto il mondo. Il primo obiettivo è aprire una sede del Consorzio e creare un premio del Pomodoro San Marzano. L'amministrazione comunale è interessata a realizzare questi progetti.